Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare con voi molto onestamente da ragazza petite a ragazza petite perché voglio condividere con voi alcuni accorgimenti che tengo in considerazione per quanto riguarda i vestiti che scelgo di indossare e acquistare. Questo perché noi ragazze basse, minute, comunque con un fisico piccolino e senza troppo seno, dobbiamo prestare un po' più di attenzione nella scelta dei vestiti che indossiamo per evitare di perderci dentro e sembrare ancora più basse e ancora più piccoline. E vi dirò ancora di più, è possibile anche scegliere l'abbigliamento giusto per valorizzare il nostro fisico e renderlo più slanciato e più grazioso. Ovviamente per condividere i miei consigli con voi mi farò aiutare da una serie di capi fondamentali che non devono mancare nell'armadio di nessuna di noi e sono tra l'altro capi che se scelti con testa possono andare a creare un armadio capsula e quindi un armadio già perfetto così senza aver bisogno di aggiungere troppi capi per renderlo perfetto. Partiamo con il primo capo che è il top o la camicia bianca. Ho scelto apposta due tipologie diverse, una è una camicia bianca classica, oversize però, mentre la seconda è un top che esprime esattamente tutto quello che io tengo in considerazione quando scelgo un top giusto per il mio fisico. È quello di scegliere il top con la manica a tre quarti e quindi non troppo lunga perché ho notato che la maggior parte delle camicie dei top che trovi in vendita hanno le maniche un pochino troppo lunghe per una ragazze basse e minute e quindi andando a scegliere un top dalla manica a tre quarti o comunque con un elastico che può aiutare a rendere la manica a tre quarti è meglio perché in questo modo si evita di avere delle maniche troppo lunghe che danno la sensazione di indossare la camicia del papà. Poi un'altra cosa che considero quando acquisto i top o le camicie è quello di avere qualcosa che dia volume sulla parte sopra e quindi in questo modo accentuo di più le spalle e do comunque anche un po' di volume per rendere armonioso il mio fisico quindi dare un equilibrio tra la parte sopra e la parte sotto anche con l'aiuto delle maniche larghe a sbuffo mi aiuto a creare più volume e quindi in questo modo riesco a creare questa illusione ottica di avere un fisico a clessidra quando in realtà non ce l'ho perché le maniche ampia a sbuffo, le rush sopra danno questo senso di volume sopra poi si va a stringere in vita e poi sotto indosso comunque qualcosa che di nuovo dia un po' più di volume per ottenere questo effetto di fisico a clessidra per quanto riguarda invece la camicia oversize e ho scelto di includerla nel video perché in questo modo voglio farvi vedere che in realtà anche alcuni capi che in realtà magari non sono proprio adatti per le ragazze basse o petite si possono adattare benissimo e soprattutto perché di nuovo per noi che abbiamo la parte sopra non troppo grande e non troppo voluminosa in questo modo le diamo ancora un po' più di volume però in questo caso non andremo ad indossare la camicia esattamente così com'è quindi non la lascerò cadere oversize sopra perché in questo modo sembrerò davvero di andare in giro con la camicia del mio ragazzo ma andrò ad accentuare la vita con una cintura oppure andrò ad inserirla dentro i pantaloni e in questo modo di nuovo accentuo la vita e do ampiezza e volume sopra vi voglio far vedere un terzo top che è un pochino più colorato però rende di nuovo l'idea di quello che cerco nei top e quindi cerco sempre delle manichette a sbuffo che diano un po' di volume nella parte sopra e che si vadano a stringere un pochino di più nella parte della vita dove poi andrò a completare con una cintura un paio di pantaloni o una gonna dalla vita alta e in questo modo renderò il mio fisico il più armonioso possibile per quanto riguarda invece la parte bassa qui parliamo di gonne e pantaloncini il consiglio che mi sento di darvi è quello di scegliere la lunghezza giusta e soprattutto per una ragazza e basse è importantissimo scegliere capi con la vita molto alta perché in questo modo si crea l'illusione ottica di avere delle gambe più lunghe di quello che sono in realtà indossare quindi una gonna o un pantaloncino dalla lunghezza giusta e quindi non troppo lunghi e con la vita altissima ci permette di creare questo effetto ottico di essere un pochino più alto quando in realtà l'altezza è sempre la stessa però in realtà il fisico è più slanciato le gambe sembrano un pochino più lunghe e si ottiene un effetto un pochino più armonioso un'altra cosa importantissima per quanto riguarda la parte sotto è quella di cercare sempre capi che abbiano questa forma ad A che valorizza comunque qualsiasi tipo di fisico passando ora invece ai pantaloni vi sento di farvi vedere questi due che sono molto classici ma c'è un senso in questo perché sono due stili completamente diversi questi sono a sigaretta mentre questi sono a palazzo e di solito quello che vedo in giro è che viene consigliato alle ragazze basse di non indossare i pantaloni a sigaretta o di non indossare quelli a palazzo perché ci fanno sembrare più basse in realtà il segreto per me è quello di trovare la lunghezza giusta e quindi per quanto riguarda i pantaloni a sigaretta a parte la vita che deve essere all'altezza giusta è importante che la lunghezza del pantalone non vada oltre la caviglia e quindi che sia sempre leggermente sopra la caviglia perché se i pantaloni di questo tipo vanno oltre la caviglia sembra che non sono della misura giusta e quindi ci fanno sembrare veramente più basse per questo motivo ho scelto anche di includere questi pantaloni a palazzo perché di solito viene consigliato di indossarli solo alle ragazze alte ma io in realtà sono riuscita a trovare un modo giusto per indossarli anch'io anche essendo bassa in realtà di nuovo si tratta di lunghezza dei pantaloni e quindi ovviamente se sono troppo lunghi perché di solito quando si vanno ad acquistare i pantaloni a palazzo o qualsiasi tipo di pantaloni sono fatti per le ragazze alte quindi o si riesce a trovare un marchio che vende pantaloni o comunque abbigliamento per ragazze minute petite oppure si devono accorciare in questo caso io non li ho dovuti accorciare perché questi li ho acquistati già così ed erano già proporzionati per il mio fisico quindi perfetti perché erano della collezione petite di ASOS non devo per forza indossarli con un tacco alto anzi io preferisco indossare i pantaloni a palazzo con una scarpa bassa perché mi piace davvero tantissimo l'effetto che creano ancora per quanto riguarda i pantaloni mi sento di includere anche i jeans perché i jeans non possono mancare nell'armadio sono un capo fondamentale e di nuovo anche qui i jeans sono un po' tricchi perché per noi ragazze basse se sono di nuovo della lunghezza sbagliata possono farci sembrare ancora più basse e anche per i jeans come per i pantaloni a sigaretta mi raccomando se sono come questi qua quindi attillati e stretch bisogna lasciare sempre almeno un centimetro sopra la caviglia per sganciare il fisico e fondamentale come per tutti gli altri capi è la vita alta e quindi più alta è più il fisico sarà slanciato e si avrà quell'effetto ottico per cui si sembrerà più alte un altro capo fondamentale nell'armadio di ognuna di noi sono i blazer e qui ne ho di nuovo due perché hanno stili leggermente diversi sono comunque tutte e due un po' lunghini ma uno è molto oversize mentre l'altro è un pochino più fitted allora la primissima cosa fondamentale che mi sento di dire è quella di assicurarsi che la spalla sia esattamente nel punto giusto e che non vada oltre o che non sia troppo dentro e quindi troppo piccolo perché da questo si nota subito se il capo è adatto a noi o meno e quindi anche se il capo deve essere oversize per noi ragazzi petite è fondamentale che la spalla sia esattamente nel punto giusto perché ho notato anche su di me se la spalla non è nel punto giusto quindi non cade esattamente nel punto della spalla si ha questo effetto per cui sembra che stiamo indossando la giacca del papà questo io sinceramente non lo trovo bello da vedere anche se è vero che nelle foto delle modelle o delle influencer su Instagram questi blazer super mega oversize che sono assolutamente non adatti per il tipo di fisico della ragazza che lo indossa sono comunque tendenze o comunque nelle foto sono molto meglio di come sono nella realtà perché attenzione a loro quando indossano un capo da pubblicizzare o comunque per trasmettere un certo feeling non lo stanno indossando così come quando stiamo in giro al lavoro o a fare una passeggiata e quindi l'effetto è completamente diverso nella foto viene molto più bello perché comunque la posizione del corpo che assume quando lo indossi è diversa da quella che hai normalmente e quindi riescono comunque perché è quello il loro lavoro riescono comunque a valorizzare quel capo e il tipo di fisico che hanno nonostante quello non sia un capo adatto però mi sento di dire cercate di non cadere in quelle trappole perché per noi ragazze basse e minute è fondamentale avere un tipo di capo che si addica al nostro tipo di fisico con questo non voglio dire che un capo oversize non sia adatto a nai anzi a me piace tantissimo indossare i capi oversize infatti ho la camicia ho i pantaloni ho il blazer però bisogna sempre trovare quello giusto e quindi quello è perfetto per noi e di nuovo come stavo dicendo la spalla deve cadere esattamente nel punto giusto e soprattutto la lunghezza della manica riesce a dare un certo tipo di aspetto al capo che stiamo indossando hanno il potere di rendere un capo bello o brutto su di noi e quindi per osmosi anche il nostro fisico diventa valorizzato o completamente nascosto dentro questo capo siccome i blazer che troviamo di solito nei negozi sono fatti per essere indossati da più persone possibili e quindi hanno di solito la manichina un pochino più lunga se ci piace il blazer come in questo caso è piaciuto questo tantissimo a me bisogna aggiustare la manica passiamo ora all'ultimo capo che voglio includere in questo video e sono i vestichini qui ne ho due molto simili e uno leggermente diverso parliamo prima di quelli un pochino più simili tra di loro ed è ovviamente la little black dress questi chi mi sta seguendo da un po' li ha già visti nel mio video di outfit di Natale ma sono assolutamente i miei vestitini preferiti ce li ho da più di un anno e da quando li ho acquistati quindi non ho più avuto necessità di acquistare un vestitino nero perché ho trovato finalmente quello che fa per me e quindi mi sento di farveli vedere e consigliarvi di cercare qualcosa di simile se siete come me basse e avete un fisico del tipo rettangolare e questi non sono altro che dei vestitini molto classici dal taglio ad A e quindi una e-line che valorizza qualsiasi tipo di fisico ma mi sento di dire soprattutto ragazze basse e minute perché questo ad esempio è coperto nella parte sopra e quindi non lascia troppo decoltè scoperto anche perché non ce n'è molto e quindi porta l'attenzione su altro tipo il viso le braccia o le gambe questo invece ha il decoltè più aperto però comunque molto sottorato molto classico e quindi avendo questa cintura inclusa in vita accendua di nuovo la parte centrale e rende più ampia la parte sopra e quella sotto mentre la vita sembra più stretta e più piccola questo vestitino in realtà è molto diverso dagli altri ma è perfetto perché può adattarsi benissimo anche alla nostra tipologia di fisico e quindi l'ho scelto per farvi vedere esattamente come si può indossare un vestitino oversize per renderlo perfetto adatto anche al nostro tipo di fisico mettendo una semplice cintura in vita si accentua di nuovo la parte sopra e quella sotto la vita sembra più piccola e quindi di nuovo lo si rende perfetto e adatto per il nostro tipo di fisico con questo ho finito di farvi vedere tutti i capi che volevo includere in questo video ma ovviamente ce ne sono di tantissimi stili e tipologie per cui se volete altri consigli di questo tipo fatemi sapere magari potrei fare un altro video in cui darvi il consiglio su come scegliere questi tipi di capi online nel caso se siete interessate fatemelo sapere qua sotto nei commenti io come sempre vi ringrazio di aver guardato questo video vi mando un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao